Buongiorno, oggi vi voglio raccontare quel che è stato il mio 2019. In realtà sono un po' in ritardo per questa tipologia di video, ma ecco, a gennaio non ho avuto nemmeno tempo di girarmi, quindi questo era il primo momento in cui potevo pensare a quel che era successo. Poi in questo video spero di condividervi tutti i miei successi e tutti i miei fallimenti, soprattutto dell'anno scorso, in modo tale che possiamo o possiate imparare anche dai miei errori. Poi dato che mi piace tenere traccia anche di quello che faccio, chissà che poi questa non diventi una tradizione di San Valentino, dove ogni anno ci mettiamo qui e vediamo cosa è successo l'anno precedente. Poi comunque se mi vedete guardare in basso è perché ho una vita di appunti, l'anno scorso è stato intensissimo e non potevo ricordarmi tutto quello che è successo, solo per scrivere gli appunti ci ho messo un paio d'ore, quindi sedetevi comodi e partiamo. Il primo gennaio eravamo in 18.000 ed io ero contentissimo, tra l'altro quel giorno ero di ritorno da Colonia dove ho passato il capodanno con i miei amici e ho fatto anche alcuni video che all'epoca facevano 1.500-2.000 views, cosa che comunque mi rendeva felicissimo. Cioè potete immaginare 2.000 persone davanti a voi, 2.000 persone che guardano i vostri video. Subito dopo il mio ritorno, il 2 gennaio sono subito ripartito per la montagna per andare a Lavarone con la mia ragazza dove il 3 gennaio abbiamo festeggiato il mio compleanno e tra l'altro proprio quel giorno mi hanno chiamato per fare un intervento in radio ovviamente telefonico con Radio DJ dove ho raccontato un po' la mia esperienza australiana. Dopodiché sono tornato alla normale produttività padovana e proprio quel mese ho fatto partire il mio blog z4zane.com che attualmente uso ancora come deposito di articoli, informazioni e contenuti utili. Se non l'avete ancora visto andateci a farci un giro che magari può essere interessante anche per voi. Nel frattempo come sempre coltivavo alcune idee ma voglio menzionarvene una di gennaio che mi pare carina. Volevo creare un brand perché mi è sempre piaciuta l'idea di dare vita a qualcosa di mio. All'epoca era abbigliamento, qui sopra vi lascio anche i render che all'epoca non mi hanno convinto e quindi non sono mai partito con questa cosa. Comunque questa idea c'è sempre, magari non per forza legata all'abbigliamento però è lasciata lì nel dispenser delle idee. Non è ancora pianificata quindi non avrà vita però di sicuro prima o poi andrò a ripescare da quel dispenser e qualcosa prenderà vita. Febbraio inizia subito a bomba. Per la prima volta appaio nel mattino di Padova, un giornale della mia città. Non so se esiste anche da voi il mattino. Comunque, perché il giorno dopo sarei dovuto andare a parlare a FEMO un evento a Padova sull'espressione multimediale ed era la prima volta che parlavo ad un pubblico. È stato molto divertente. La mattina ho parlato a circa 50 persone, due classi delle superiori su come iniziare un'attività su YouTube mentre il pomeriggio ho spiegato come rendere virali almeno per quel che ne sapevo all'epoca dei video su YouTube e lì il pomeriggio c'erano soltanto 10 persone. È stato molto divertente, una bellissima esperienza e buttarsi alle volte serve tantissimo e mi ha insegnato molto. Poi sempre a febbraio diventiamo 25.000 e siamo più grandi di Albignasego, il paese dove abitavo. E quel mese oltretutto è stato ricco di nuove conoscenze. Ho conosciuto Luca Di Scacciati a Verona con il quale abbiamo una rubrica sul trading e siamo comunque rimasti grandi amici. A Milano ho conosciuto Andrea Maurizio Gilardoni con il quale abbiamo parlato di investimenti immobiliari e sono andato a un suo evento su rendimento etico una piattaforma molto figa. Ho conosciuto anche Carlo Alberto, fondatore di My Accounting sito che ho sfruttato per la contabilità tutto l'anno scorso e con lui abbiamo fatto anche alcuni video sulla fiscalità molto interessanti. ed oltretutto alla fine di quel mese ho iniziato il mio percorso verso quello che per me è il minimalismo. Marzo è stato un mese di infinita esplorazione ho provato e mi sono informato su veramente tantissime cose. Sono stato a Trento da Lorenzo Vanzo con il quale abbiamo parlato di Kindle Publishing e di Network Marketing che poi ho iniziato a sperimentare però attualmente non pratico più dovrò farci un video a proposito dove vi spiego il tutto quindi se non volete perdervelo iscrivetevi ho conosciuto Antonio Vida con il quale abbiamo fatto una chiacchierata riguardante Amazon FBA anche su quello devo aggiornarvi perché l'anno scorso mi è andato molto bene quest'anno con la riapertura della mia nuova azienda sto valutando se ripartire, riiniziare dove ero rimasto o meno in questo momento sono in un momento di pausa però ne devo parlare su un video separato così vi aggiorno su tutte le cose comunque in questo momento non sto facendo Amazon FBA se è questo quello che vi interessa poi sempre quel mese mi sono informato sul dropshipping e l'ho approfondito non l'ho mai fatto però sto valutando se iniziare e se provarlo perché mi interessa e voglio approfondire questa cosa e con il mio primo collaboratore ho fatto partire il mio podcast che è fallito miseramente ora in questo momento lo stiamo ripensando e stiamo rivedendo se farlo ripartire in un altro modo insomma stiamo cercando di imparare dai nostri errori e arriviamo al mese di aprile ad aprire per la seconda volta avrei dovuto parlare nuovamente ad un pubblico per l'inaugurazione di uno spazio giovani però all'evento che non doveva essere pubblicizzato da me io dovevo andare lì a parlare semplicemente non si è presentato nessuno quindi ho passato una giornata a Rovigo e mi sono fatto qualche foto dato che c'eravamo io e il fotografo e un'altra persona che doveva parlare e basta quindi è stata divertente è una bella esperienza presentarsi a un evento dove poi non arriva nessuno e non parli a nessuno poi ho conosciuto e ho fatto un'intervista per il canale di Alberto Giannone e ho iniziato a fare le prime sfide con i 10 km per 7 giorni ho iniziato insomma a testare anche me stesso dal mese di aprile e sempre quel mese sono stato 3 giorni a Bologna dove ho approfondito gli investimenti immobiliari con un evento di guadagnare con le case molto interessante sul credito immobiliare figo ora arriva maggio la stagione calcistica è appena finita come sapete io sono un amante del calcio e ho sempre giocato con una squadra quindi finita la stagione finiti gli impegni calcistici inizia la stagione del viaggio si inizia con una pedalata propedeutica al lago di Garda dove abbiamo festeggiato il primo di maggio però il tutto inizia realmente il 7 di maggio dove da Venezia parto per andare in Estonia a Tallin facendo scalo a Bruxelles quindi Venezia Bruxelles Bruxelles Tallin Tallin a Tallin faccio i miei primi video viaggi collaborazione con un'azienda con Bondora che se non conoscete andatevela a vedere con loro ha fatto alcuni video molto interessanti e riprendetevi anche i video di Tallin perché sono molto belli e pur sempre interessanti interessanti lo ripeto spesso da lì capisco che mi piace tantissimo mettere insieme il lavoro al viaggio infatti ho conosciuto lì tantissime persone con le quali sono ancora in contatto ed oltretutto l'hotel dove ero aveva un casino voi non giocate però divertitevi al casino io di solito vado ai casino e prendo i bonus iniziali quelli che cercano di darti per farti giocare il più possibile io invece li prendo gioco soltanto quei bonus alle volte capita che vinco anche soldi e quando finiscono quei bonus per me la serata è finita e mi diverto a guardare gli altri non so perché mi piace fare così comunque dato che Tallin è davanti a Helsinki prendo un traghetto da Tallin e vado a Helsinki in Finlandia dove praticamente i primi giorni scrivo a 27.000 aziende per cercare di entrare e farvi vedere anche cosa succede ad Helsinki per fortuna mi risponde Olvi una fintech finlandese molto interessante ci ho fatto anche un video insieme e tra l'altro lì ho trovato due italiani che lavorano proprio per questa azienda fintech dopodiché sempre a Helsinki dopo aver fatto il normale turista perché lì ci sono andato anche per visitare la città provo ad andare agli uffici della Supercell ovviamente fallisco clamorosamente perché non mi fanno nemmeno entrare e l'11 maggio da Helsinki torno a Venezia e 5 giorni dopo arriviamo ad essere 40.000 persone per me è una cosa esplosiva 40.000 persone non sapevo cosa dire e cosa fare arriva giugno e lì finisce la sfida della doccia fredda e pubblico il video su questa cosa oltretutto quella sfida continuerà e continua tuttora perché la doccia fredda la faccio tuttora me lo chiedono spesso in tanti e sì, quell'abitudine e quella sfida mi è stata molto utile e la porto avanti da allora da maggio quando ho iniziato fino adesso ormai è quasi un anno che mi faccio la doccia fredda quindi sì, provatela è molto interessante e soprattutto per me a livello mentale molto utile dopodiché vado a Firenze per un evento di Startup Italia dove con infinito piacere inizio ad incontrare e conoscere tantissime persone che magari hanno guardato un mio video o alcuni dei miei video e è bellissimo poter parlare con le persone e scambiare opinioni produttive anche se poi alla fine del discorso il mese di giugno non è per nulla produttivo perché riesco a pubblicare pochi contenuti a causa degli esami universitari che sto sostenendo però finiti gli esami già dalla fine di giugno parte un'avventura immensa della quale ho fatto tantissimi video che comunque vi lascio qui il 28 parto per Milano quel giorno ho parecchi incontri e per la prima volta vado nel Fintech District un co-working dove è pieno di Startup un gran bello ambiente per me è nuovo dato che non l'avevo mai visto nella realtà molto figo anche se non so se un co-working è il luogo giusto per me boh vediamo magari in futuro proverò ad andare in un co-working i seguenti tre giorni fino all'inizio di luglio sono nuovamente a un evento di guadagnare con le case perché sfortunatamente il primo evento non ho potuto seguirlo fino alla fine perché la domenica avevo una partita ma ora dato che la stagione è finita riesco a seguirlo fino alla fine mi appunto veramente tantissime cose senza poi mettere in pratica tutte queste conoscenze perché poi a fine anno come avete visto mi sono trasferito altrove e ho puntato su altri progetti non è detto che io non possa tornare indietro e riprendere in mano tutti quegli appunti vediamo nessuno lo può sapere poi da Milano prendo il treno e mi dirigo in Svizzera a Chiasso dove vado da Luca e giriamo alcuni video sul trading e poi lui mi porterà a Campione d'Italia luogo molto particolare dove ho anche girato un video e dopodiché da Campione d'Italia andiamo a Lugano bellissima città ma allo stesso tempo costosissima poi da Chiasso prendo un treno direzione Malpensa dove saliremo su un aereo per Alicante sono andato lì per trovare la mia ragazza che stava facendo scambio scuola lavoro in quei giorni sono stato un po' con lei ho lavorato e ho continuato a studiare per gli ultimi esami universitari e poi ovviamente ne ho approfittato per fare un po' il turista tra Alicante e il suo bellissimo castello per andare anche a Mursia una città vicina e il 7 di luglio sono tornato a casa prima di tornare però nell'aeroporto entro grazie alla mia carta Amex per la prima volta in un lunch aeroportuale luogo veramente figo ho mangiato veramente troppo tanto ne ho approfittato giustamente quel giorno poi dopo 15 giorni ho fatto rientro a Padova ed ero veramente pieno di contenuti di cose da farvi vedere e da far vedere sul canale e alla fine la cosa più semplice che ho notato per avere nuove idee per avere nuovi contenuti è semplicemente uscire anche leggermente dalla quotidianità in questo modo veramente ci si apre davanti un mondo e ci si aprono tantissime idee tantissime nuove cose da fare e di sicuro per la produzione di contenuti video, audio qualsivoglia cosa questo è più che positivo diciamo che luglio nonostante l'estate è stato uno dei miei mesi più produttivi infatti questione di giorni dal mio rientro e tocchiamo le 50.000 persone io rimango sempre un po' così quando vedo questi numeri perché dietro ad ogni numero c'è una persona e io mi immagino 50 c***o di mila persone qui 50.000 persone provate a immaginarvele io non riesco non lo so neanche fossimo allo stadio tra l'altro come se non bastasse in luglio sono riuscito anche a prendermi 7 punti qui ferma tutto questa era soltanto la prima parte voi iscrivetevi se non volete perdervi la seconda sta arrivando velocissima quindi attivate la campanellina se volete essere i primi a vederla ditemi cosa ne pensate di questo video ricordatevi di andarmi a seguire su instagram se non volete perdervi mai quello che sto facendo quotidianamente e lasciate un mi piace come sempre se vi è piaciuto questo video la seconda parte arriva noi ci vediamo velocissimamente che è piaciuto questo video e non ci vediamo velocissimamente Grazie a tutti.